L'uomo delle nevi si aggira sulle montagne rocciose. Non ho mai visto niente di simile. I testimoni ritengono che la creatura produca un urlo agghiacciante. Se la incontri non hai che un solo colpo. Si dice che va da caccia di alci e altri animali della zona. Con gli artigli ha graffiato a sangue un cavallo. In questo episodio useremo la tecnologia più all'avanguardia per determinarne l'identità. Per quanto ne so, un animale che lascia tracce come queste è del tutto sconosciuto. Non ci sono orsi qui che sfiorino i 400 chili. Tutti si impegneranno al meglio per rivelare chi sia questo terribile predatore. Sembra ci fosse qualcosa qui di recente. Cos'è quello? Mi sembra di aver visto qualcosa. Testimoni di tutto il mondo affermano di aver visto delle creature mostruose. Sono reali o immaginali? La scienza cerca delle risposte e va a caccia di mostri. Colorado. Questo paradiso della natura è dominato dalle montagne rocciose, dal più grande branco di alci del mondo e da qualcos'altro. Una spaventosa creatura pelosa si aggira qui, in cerca di preda. Conosco i versi degli animali e questo non l'ho mai sentito. Una volta ho visto delle tracce e mi sembrava mi stesse osservando. Sembrava fosse uscito dallo stagno. Era lì in piedi su due zampe e mi guardava. Ci sono cose in questo mondo che non si possono spiegare scientificamente e questa è una. I testimoni sostengono di aver visto una creatura alta 3 metri che cammina eretta, con lunghe braccia e grandi mani. Il suo peso oscilla fra i 250 e i 350 kg ed è simile a un animale che storicamente si dice veniva cacciato sulle grandi alture. Esistono molte storie su una creatura della foresta simile a un uomo o a un gorilla. Katie Lall è giornalista e storica del Colorado da oltre 60 anni e ha anche raccolto storie sulla creatura lungo i secoli. Risalgono al 1880 e sono riportate dal giornale delle miniere di Lidville. Alcuni minatori lavoravano sulle montagne e sentirono uno strano verso. Per indagare meglio si arrampicarono sulle rocce. Quando uno degli uomini arriva fino in cima fa uno spaventoso incontro. Racconta l'incredibile storia di un essere peloso con cui si trova faccia a faccia metà uomo e metà bestia diverso da qualunque altra cosa. I giornali dicono che il minatore era pallido come un cencio e tanto spaventato da non riuscire a parlare e spiegare cosa avesse visto. In ogni storia è descritto un po' diversamente ma è sempre un incrocio tra un uomo e un gorilla più alto di un uomo molto più massiccio tra i 180 e i 360 chili peloso con braccia e gambe molto lunghe. Le storie sugli avvistamenti non impediscono ad altri di essere scettici. Bill Hiker è un biologo del Dipartimento per la Fauna Selvatica del Colorado. Se una creatura simile esistesse tipo un Sasquatch o comunque tu lo voglia chiamare dovrebbero esserci prove concrete. Avremmo dovuto trovare dei cadaveri, delle ossa e per esempio se fosse erbivoro trovare anche dei segni di cosa si nutre. Per Hiker la scarsa frequenza degli avvistamenti aumenta i dubbi. Bisognerebbe incontrarlo o trovare segni del suo passaggio. Ma sono proprio gli incontri ad aver convinto molti che la creatura esiste. Il ricercatore Kate Foster indaga sugli avvistamenti da oltre 15 anni. Di solito in Colorado gli avvistamenti non vengono riportati da campeggiatori inesperti anzi si tratta di persone che hanno trascorso molto tempo nella natura, nei boschi e questo attribuisce una certa credibilità a tali incontri. Foster ha catalogato più di centinaia di resoconti. La maggior parte sono avvenuti vicino a Pikes Peak sulle montagne rocciose a 80 chilometri dalla città di Colorado Springs. Queste foto sono state scattate sulle montagne a 3.300 metri e sono parte di una serie di avvistamenti recenti. Le orme sono grandi e la lunghezza dei passi raggiunge gli uno o i due metri. Quindi sono facili da identificare perché non c'è proprio nient'altro in natura che lasci tracce di questo tipo. Foster ritiene che queste potrebbero essere le tracce di un animale misterioso. E qui a 3.300 metri che a caccia di mostri vuole cominciare la sua spedizione per scoprire l'identità del predatore e grazie a una perlustrazione aerea cercare le prove. Il sistema più efficiente per trovare una creatura come questa in terreni montuosi è proprio l'elicottero. Paul Drexler fotografo naturalistico sarà responsabile della raccolta di prove fotografiche della creatura. Per questa spedizione ha scelto due strumenti. Una è una videocamera ad alta definizione e l'altra è la più avanzata tecnologia a sensibilità termica. Cercheremo delle fonti di calore ovvero i segni prodotti da un qualunque tipo di creatura che abbia lasciato una traccia. questa telecamera termica mostra il calore emanato da un qualunque oggetto e anche quello residuo a conseguenza di una qualsiasi attività recente. Questo significa che il calore di tracce fresche potrebbe mostrare la direzione in cui la creatura si è diretta. Sulle alte montagne quando comincia a nevicare a volte si è costretti ad atterrare. Volare a queste altitudini rappresenta comunque un pericolo anche per dei piloti esperti. I voli ad alta quota possono sempre dare problemi. Uno riguarda il vento che può essere molto forte. Oggi ci sono molte raffiche e un jet ha già riferito di una moderata turbolenza che per noi significa forte turbolenza. Un secondo problema è l'aria rarefatta che rende difficile il volo. Usare maggiore potenza significa meno riserve. Gli esperti voleranno a bordo di un Westland Gazelle che offre una grande manovrabilità anche a queste altitudini. Siamo pronti a entrare in azione. Riusciremo a seguire qualunque cosa troviamo e gli resteremo vicino. Direi che abbiamo potenza sufficiente. Tenetevi pronti al decollo. Temperatura e pressione sono regolari. Controllo della potenza. Siamo pronti. a 2.400 metri comincia la turbolenza. È davvero forte oggi. Guarda quelle nuvole. Ci sarà tempo brutto. Anzi, è già arrivato. Durante la perlustrazione la sola protezione di Drexler dal vento e da una caduta fatale è un'imbracatura. La temperatura precipita aumentando il pericolo. hai sentito? La temperatura è scesa. Ho sentito. È molto più bassa. Gli uomini si dirigono in un punto dove sono già state rilevate delle tracce. Sulla sinistra vedo qualcosa. a caccia di mostri sta risalendo le alte montagne del Colorado alla ricerca di ciò che alcuni chiamano l'uomo delle nevi. mi guardava e sapevo che era là. Jeff Deisinger è una guida professionista della zona da oltre 15 anni mentre a caccia di alci racconta di un incontro faccia a faccia. Ero nella zona dove di solito ci sono gli alci. A un certo punto ho sentito una specie di grido e mi sono bloccato cercando di capire cosa stesse accadendo e poi vidi quella cosa in piedi su due zampe che guardava dritto davanti a me. Ero a circa 180 metri da lui e se devo essere sincero il primo pensiero non è stato tanto capire cosa fosse ma se stava venendo verso di me perché avrei avuto un solo colpo. L'ho guardata a lungo visto bene i tratti del volto i colori e tutto. è stata un'esperienza unica e la mia prima reazione è stata quella di andarmene. Per Kit Foster non è un caso che la creatura si trovi vicino agli alci. Credo che qui in Colorado ci sia un abitato idoneo per i Sasquatch. È un ambiente privilegiato comunque un predatore di alci seguirà ovviamente gli alci e naturalmente come tutti i predatori cercherà di catturarli ma resterà lontano quanto basta per non far scappare la sua fonte di cibo. Foster sostiene che la creatura migri con gli alci attraverso le montagne rocciose ed è per questo che le tracce appaiono solo in certe stagioni ma mancano ricerche serie. È molto interessante esaminare il numero di avvistamenti documentati. Chris Markusson direttore del sistema di informazione geografica di Plebo County userà le sue specifiche competenze informatiche per stendere una mappa e ottenere uno schema degli avvistamenti. Il sistema di informazione geografica ci permette di raccogliere una quantità di informazioni complesse e trasformarle in un database ordinato e quindi in una mappa tridimensionale in modo da poter prendere delle decisioni mirate e avere una traccia geospaziale delle relazioni fra oggetti apparentemente disparati. Il Colorado è noto per la sua difficoltà tipica di rilevare le specie e soprattutto gli orsi grizzly e i ghiottoni due animali di cui vi sono frequenti avvistamenti ma che sono difficili da documentare. Il biologo Bill Gevan sa bene che è difficile tracciare le specie in Colorado anche perché le zone di natura selvatica sono vaste. Egli ha fornito i dati sugli animali posseduti dal Dipartimento per la Fauna Selvatica così da poterli paragonare. Quello che abbiamo fatto per ora è stato raccogliere i dati disponibili e inserirli in una mappa. Come si può vedere qui i punti rossi rappresentano gli avvistamenti. È chiaramente una specie che si concentra sulle zone montuose soprattutto centrali. Un'area cioè dove la fauna selvatica si spinge alle altitudini maggiori allargandosi un po' anche verso ovest dove ci sono degli altipiani sperduti. Eseguendo un'analisi della densità è possibile individuare le zone privilegiate. Sembrerebbe che qui a Routh County così come a Teller County e anche a San Juan Mountains ci siano delle zone di natura selvaggia ma ciò che è interessante è che sono aree quasi ai confini e questo ha senso perché serve che vi siano molte persone perché avvengano degli avvistamenti e comunque sono zone abbastanza isolate. L'analisi iniziale rivela che la metà degli avvistamenti avviene tra ottobre e aprile. Questo non sembra coincidere con il comportamento di un probabile predatore di alci ovvero l'orso. Che delle persone vedano degli orsi e li scambino per dei Sasquatch sarebbe comunque curioso visto che siamo in inverno e gli orsi sono in letargo. Siamo fortunati qui in Colorado ad avere più alci di qualunque altro stato. Rappresentiamo una delle più abbondanti fonti di cibo per i grandi mammiferi e come si può vedere da qui l'area degli avvistamenti è per due terzi entro il nostro territorio. Se l'uomo delle nevi segue la migrazione degli alci in inverno gli avvistamenti avverranno ad altitudini più basse. esaminando l'altitudine media emerge che gli incontri in inverno si sono verificati tra i 2200 e i 2700 metri e in estate 300 metri più in alto. Questo ci fa capire che si tratta di una specie che in genere si muove a elevate altitudini ma c'è una differenza nello schema migratorio e in inverno si muove ad altitudini più basse che in estate i dati sembrano suggerire che l'uomo delle nevi cacci davvero gli alci di Pikes Peak è un fatto importante da considerare abbiamo capito che gli avvistamenti variano a seconda della stagione perché questo ha una corrispondenza con lo spostamento delle alci un cibo necessario per i Sasquatch la spedizione di Acaccia di Mostri individua un'area dove gli alci si recano in cerca di acqua essi rimarranno nascosti e gli esperti devono muoversi a piedi per poterli individuare questa zona è aspera e selvaggia su entrambi i lati della valle e potrebbe facilmente ospitare specie non originarie o ignote e comunque vi si aggirano molti predatori il gruppo a piedi è capitanato da Kim Sowerbree un tracciatore esperto che lavora qui da 30 anni oggi dobbiamo risalire la valle siamo nel Cathedral Park nella foresta nazionale di Pikes e ci dirigiamo verso un rifugio egli studia con altri tracciatori il modo per arrivare al pendio a sud ovest di Pikes Peak una zona dove gli alci cadono nelle imboscate è una zona che piace ai leoni di montagna ma anche agli alci perché si possono inoltrare nel buio del bosco su terreni scoscesi dove è difficile per i predatori arrivare nei mesi invernali gli alci cercano il cibo ai bordi della neve perenne a 2800 metri è qui che la ricerca comincerà dobbiamo lasciare qui le nostre provviste perché il sentiero diventa molto stretto ci sono parecchi punti scoscesi e dovremo spesso procedere a piedi le gole di questa zona sono un terreno perfetto sia per gli alci che per i loro predatori i predatori come i lupi possono salire in alto quando è buio possono avvicinarsi prima che le prede si accorgano della loro presenza ci sono molti posti per loro dove nascondersi o rintanarsi l'elevata altitudine chiede il suo prezzo ma i primi risultati sono promettenti vi sono segni di attività ma non sono freschi vecchi però ci sono altre prove di un branco recente di alci per qualche ragione il terreno è molto smosso gli alci più grandi usano gli alberi per raschiare le loro corna o per liberarsene è opera di un maschio queste impronte di alci sono incoraggianti forse chissà che non ci siano buone possibilità di avvistare l'uomo delle nevi se fosse in questa zona per nutrirsi di alci così come abbiamo ipotizzato dovremmo trovare delle tracce gli uomini si addentrano nel bosco e fanno una scoperta molto interessante una tana che sembra essere occupata da un predatore c'è qualcosa qui a caccia di mostri sta cercando tra le montagne del colorado la prova dell'uomo delle nevi che forse caccia gli alci di questa zona gli esperti hanno trovato delle prove che suggeriscono che il luogo è quello giusto Kim Sauenbree e il suo gruppo di tracciatori hanno scoperto una grotta e ora stanno indagando ma è troppo pericoloso esplorarla senza poter vedere nel buio la ragione per cui non voglio entrare è che non sappiamo cosa ci sia dentro e poi temo che possa crollare meglio stare lontani è rischioso si vede una specie di cuccia con foglie rami alberi stesi a terra e segni di zampe e artigli come se qualcuno avesse cercato di tirarsi fuori per Sauenbree è troppo pericoloso per ora addentrarsi senza l'equipaggiamento adeguato mi piacerebbe farlo domani prendere l'attrezzatura per le riprese e esplorare bene l'interno gli esperti hanno con sé una telecamera termica che hanno posizionato di fronte all'entrata della grotta in caso di attività dovremmo ottenere buone riprese degli animali che vi entrano devono passare da un punto molto stretto per cui le immagini dovrebbero essere buone sta venendo buio e gli animali si preparano a muoversi dobbiamo muoverci anche noi perché dobbiamo tornare la telecamera registra i dati sul nastro così gli uomini non sono obbligati a restare in osservazione per tutta la notte e gli animali non si spaventeranno direi che siamo pronti sembra che la telecamera sia a fuoco se riusciamo ad andarcene in fretta prima di essere visti e abbiamo buone possibilità di riprendere qualcosa stanotte il gruppo ritorna al campo per passare la notte ma se la ricerca via terra porta ad alcuni interessanti rilevamenti anche l'elicottero scopre alcune tracce nella neve ci sono delle tracce qui guarda sì guarda sono tre serie ritorno di nuovo sopra Paul Drexler usa la telecamera termica per verificare che le tracce siano fresche ma in realtà non emanano alcun calore queste tracce sono vecchie ad un tratto un'occhiata da vicino rivela qualcosa un coiote vai avanti sì ma il carburante è al limite gli uomini sono incoraggiati dall'avvistamento sono nella zona giusta permesso di atterrare puoi atterrare queste tracce conosciute come le urme del fiume Eagle sono state fotografate nell'aprile del 2000 da Bill Bryce non ho mai visto niente di simile Bill Bryce di solito pesca per rilassarsi dopo il lavoro stavo camminando non molto lontano dal fiume Eagle era primavera quindi l'acqua era alta e la corrente rapida mi ero portato sulla riva per mettere un'altra esca e mentre guardavo verso il basso un'impronta nel terreno catturò la mia attenzione mi fece sussultare perché era enorme e sembrava umana ma era troppo grande per esserlo così cominciai a guardarmi intorno perché era chiaro che qualunque cosa fosse era gigante mi si rizzarono i capelli in testa e sentì che qualcosa mi stava osservando il giorno seguente Bryce torna per scattare una foto dell'orma e poi la mostra alle autorità locali tutto quello che posso dire è che ciò che ha impressionato Bill Bryce non appartiene a un orso né a un uomo Bill Hiker è un biologo del Dipartimento per la Fauna Selvatica del Colorado e gli afferma che in 32 anni di servizio non ha mai visto niente di simile non credo sia uno scherzo Bill Bryce ha davvero trovato quelle tracce e immagino abbia pensato fosse un Sasquatch lo sceriffo di Eagle Count e Bill Kaufman viene chiamato affinché collabori all'identificazione non conosco nessun animale nella zona che possa lasciare un'impronta simile la profondità dell'orma è significativa sappiamo che qui nei dintorni ci sono pochi animali che abbiano un peso sufficiente per lasciare una traccia del genere e ricordo che allora stabilimmo che poteva sfiorare i 270 chili il luogo dove sono state trovate le tracce è un luogo dove di solito non va nessuno non ci sono né strade né piste e l'unico modo per arrivarci è attraversare il fiume Eagle River è uno dei fiumi più infidi in cui io sia mai stato è difficile da guadare e se anche qualcuno volesse fare uno scherzo non avrebbe un gran successo ci potrebbero volere decenni perché qualcuno lo scopra è un punto isolato non ci si passa per caso c'è un altro tipo di esame che può aiutare a determinare se è stato l'uomo delle nevi a produrre le urme della foto di Bryce la prima cosa da fare è valutare la qualità è una buona impronta? l'ecologo dottor Jim Halfpenny è un esperto di tecnologia forense e ha insegnato i metodi di rilevamento delle impronte possiamo prendere delle fotografie dei calchi rilevati sul terreno e compararli con calchi in gesso o scansioni fotografiche e poi esaminarli sul computer Halfpenny analizza spesso tracce non identificate usando le tecniche che insegna ha osservato molti casi di errate identificazioni ma ce ne sono alcuni che non sa proprio spiegare c'è una categoria di tracce che ha solo due possibili soluzioni o sono prodotte da una creatura non ancora documentata dalla scienza o sono false a caccia di mostri allestirà diversi esperimenti per determinare l'identità del predatore che caccia gli alci delle montagne rocciose in Colorado Bill Hiker ne condurrà uno sullo stesso terreno dove sono state trovate le tracce del fiume Eagle per determinare almeno lui spera il peso della creatura che può averle lasciate mai visto niente di simile a caccia di mostri ha usato le foto per riprodurre le tracce davvero delle ottime foto la presenza del metro che indica la lunghezza permette di determinare la larghezza e anche la profondità della traccia la riproduzione dell'impronta è montata su un'intelaiatura che sopporta migliaia di chili verranno aggiunti dei sacchi di sabbia fino a che lo spessore corrisponderà bene l'utilizzo di una telecamera accelerata determinerà se il tempo è responsabile del cambiamento dell'impronta causando un errore di identificazione stiamo cercando di capire come il tempo potrebbe aver distorto le impronte la telecamera cattura un'immagine ogni due minuti permettendo agli esperti di vedere come i cambiamenti atmosferici possono aver avuto influenza su di essa ne ricaveranno indizi? potrebbe suggerire se si tratta di un sasquatch colorado è qui che a caccia di monstri si è recata per trovare il predatore di alci delle montagne rocciose le leggende dell'uomo delle nevi vengono tramandate da molte generazioni le mani erano tutte nere e anche il volto era simile a un gorilla John Trujillo dice di aver avuto due incontri con il mostro proprio vicino a casa avevo acceso un fuoco per un barbecue era poco prima dell'imbrunire e ho sentito dei rumori secchi come delle rocce che sbattevano poi i cavalli avevano cominciato ad agitarsi e sono saltati fuori dal recinto e hanno iniziato a correre a tutta velocità con gli occhi spalancati erano davvero terrorizzati a quel punto si sentì il primo grido ma fu breve poi ci fu anche un secondo grido l'uomo terrorizzato immediatamente si allontana non notando che i cavalli riportano il segno di alcuni artigli non riesce a vedere il predatore che lascia questi segni ma ecco che avviene un secondo incontro mio padre mi aveva raggiunto per aiutarmi con il cibo e l'acqua per i cavalli era mattina presto e di solito quando apriamo la porta il cane corre attraverso il campo e non ha mai paura di niente quella volta si lanciò verso il bestiame e sia il cane che mio padre videro qualcosa di strano il padre di Trujillo vede una grande creatura di tre metri di colore bruno che cammina su due piedi e che si infila tra gli alberi ma poi subito corre via il cane era corso in casa era davvero spaventato per più di due ore non è più uscito per andare alla ricerca di nuove prove gli esperti di a caccia di mostri si inoltrano a piedi nella foresta incontro alla creatura hanno trovato una zona interessante e promettente se dobbiamo trovare un grande predatore questo è un luogo ideale per cercare tutto ciò di cui può avere bisogno prede e acqua qui c'è nella zona c'è anche una grotta abbandonata che rivela segni evidenti di un passato predatore forse è la casa dell'uomo delle nevi oggi metteremo un grand'angolo sulla telecamera in modo da avere una visione ampia dell'interno della grotta un'apertura di tre metri dovrebbe permetterci di vedere qualunque cosa si trovi al suo interno l'esplorazione iniziale della grotta rivela che attualmente è vuota ma questo non significa affatto che un grande predatore non ne abbia potuto fare un tempo la propria casa è evidente che qualcuno è stato qui e per un certo periodo vi ha dormito è abbastanza ampia per ospitare un grande predatore l'esame delle quattro serie di fotografie di impronte offre a Jim Halfpenny qualche buona intuizione abbiamo una lista di criteri per ogni specie mammifera e li esaminerò tutti per vedere se le foto corrispondono a qualche speciale categoria dopo aver fatto questo potrò valutare se questa traccia è stata fatta da un animale selvatico che è normalmente presente qui o magari da un sasquatch la prima serie di tracce è stata fotografata a 150 chilometri da Pikes Peak si vede chiaramente che ci sono delle dita e gli aghi di pino sono utili per capire le proporzioni l'arco delle dita non è regolare come quello che per esempio caratterizza i nostri piedi in questo caso ce ne sono un paio qui e poi questi altri un po' più su sono dita che provengono da diverse tracce tutti e tre questi criteri la forma delle dita l'arco che disegnano e i cuscinetti interdigitali suggeriscono un grande felino forse un puma sembrano simili alla successiva serie di tracce di Pikes Peak la mia prima reazione vedendo anche la foto che mostra una riga dritta mi ha fatto pensare allo schema di una corsa al galoppo o a salti se la creatura cammina su due piedi le tracce dovrebbero avere uno spostamento destra-sinistra la distanza tra esse e i loro susseguirsi è un fattore chiave nella comprensione di cosa le ha lasciate lo schema si rivela praticamente diritto non c'è spostamento più un animale si muove veloce meno tale spostamento destra-sinistra è visibile ma quando si parla di una creatura quale potrebbe essere un sasquatch che pesa centinaia di chili e che ha quindi una corporatura massiccia l'andatura non può essere troppo veloce come invece vorrebbe suggerire questa fila di orme una davanti all'altra anche un sasquatch in corsa dovrebbe avere uno spostamento sinistra-destra penso quindi che si tratti di un coyote al galoppo ora Alf Penny prende in esame le tracce del fiume Eagle che hanno lasciato sconcertate le autorità locali e la polizia sono un'interessante serie di tracce e sono state prese sul terreno non sulla neve mi fanno pensare a qualcuno con le gambe divaricate fortunatamente risponiamo di foto panoramiche in primo piano da cui è possibile dedurre l'orientamento le fotografie mostrano che l'impronta è di circa 47 centimetri ma a 33 c'è un piccolo sprofondamento simile a un tallone qui in Colorado gli orsi bruni sono animali comuni e se pensiamo alla misura massima possibile di una loro impronta potrebbe anche trattarsi di uno di questi esemplari dalle cui tracce si deduce un tipo di appoggio in movimento tuttavia siamo di fronte a un'impronta di 33 centimetri per 19 ed è veramente grande per un orso bruno anche se si trattasse delle zampe posteriori quindi forse potremmo escludere un grosso orso e accettare l'idea che si tratti di un Sasquatch a caccia di mostri sta conducendo un esperimento che determini il peso dell'uomo delle nevi che si aggira da queste parti ancora un altro dopo aver impilato 135 kg di sabbia gli esperti esaminano la traccia un orso bruno maschio di media grandezza può anche pesare 135 kg ma stiamo parlando di un esemplare piuttosto grosso tuttavia non enorme c'è questo segno leggero però il tallone dovrebbe trovarsi qui ma è quasi invisibile ci vogliono altri sacchi di sabbia aggiungono 109 kg le portano il totale a 244 le impronte sono comunque meno profonde di quella del fiume Eagle di 7 cm 244 kg corrispondono a un orso bruno maschio bello grosso ma riguardo al tallone per quanto vedo l'orma non è abbastanza uniforme quindi mettiamo altri 4 sacchi arriviamo a 353 kg che sarebbe pari al più grande orso bruno mai trovato qui la ricerca dall'alto è di nuovo condizionata dal tempo le previsioni indicano forte vento e neve è molto pericoloso è molto difficile trovare qualcuno disponibile a volare con un tempo così te lo assicuro e intendo ovunque con condizioni simili è da matti la tempesta impedisce però agli uomini di salire fino a 3300 metri sono ben al di sotto delle attuali nevi perenni ed è la zona dove gli alci probabilmente pascolano individuare le tracce è quasi impossibile qui è elicottero stiamo esplorando un po' verso nord per vedere se riusciamo a trovare un buon punto ma è molto difficile trovare una buona neve con molte tracce e anche fresche il tempo peggiora e devono interrompere ecco ora c'è poca neve e ci sono delle tracce qui le vedo a caccia di mostri sta cercando l'uomo delle nevi una creatura che si dice si aggiri tra le montagne rocciose del Colorado gli uomini di questo elicottero sorvonano la zona innevata di Pikes Petra questo esperto ritiene che la creatura cacci i branchi di alci quest'uomo ha fotografato le urme della creatura questo ecologo sta tentando di confermare l'identità di chi le ha lasciate gli avvistamenti in Colorado sono più di 100 sono stati raccolti da Christopher Markusson e Bill Given che li analizzano perché forse la creatura sta fuggendo dall'avanzata della civiltà facendo riferimento alle date ho cercato di capire dove si è cominciato tutto e come gli avvistamenti si siano poi succeduti nel tempo sembrerebbe che gli avvistamenti si siano spostati sempre più verso le zone selvagge allontanandosi dai centri abitati era proprio ciò che volevo focalizzarsi via via che Colorado Spring è cresciuta il numero degli avvistamenti sembra correlato all'espansione della città all'interno della foresta e questo certamente ha una relazione con gli avvistamenti dei grizzly via via che la popolazione si allarga ed espande anche loro si allontanano fino quasi a sparire è uno schema simile direi l'esame suggerisce che via via che il suo habitat scompare la creatura si muove verso ovest tutte le specie selvatiche si stanno confrontando con lo sviluppo tecnologico e civile e con l'impatto umano sull'ambiente è evidente che sorgano dei conflitti il cattivo tempo che ha reso difficile la ricerca aerea sta diventando preoccupante anche a terra gli uomini hanno trovato una grotta che potrebbe essere stata usata dalla creatura come rifugio il tempo oggi non è buono sta arrivando un temporale e ci sarà sia pioggia che neve e noi ci troviamo in una valle da cui sarà difficile uscire gli uomini cominciano a esaminare la telecamera termica per vedere se vi sono state buone riprese non vedo nulla qui non mi sembra proprio ci sia niente credo che questo sia l'habitat perfetto dove una creatura come questa possa vivere secondo me esiste i test sulle impronte continuano le immagini accelerate sono state scaricate e portate ad half penny l'esperimento delle immagini a velocità accelerata mostra che gli effetti delle radiazioni sulla neve sono impressionanti e le tracce alla fine si uniscono tra loro formandone una enorme e quindi delle singole impronte normali possono diventare quella gigante di un sasquatch per svolgere l'esperimento abbiamo usato tracce di orso alci e uomini è facile notare che quelle di orso possono diventare quelle di un sasquatch e anche quelle umane sono adatte per quelle degli alci non si può dire lo stesso half penny conclude che un errore di identificazione potrebbe spiegare le tracce trovate nella neve ma non può dire lo stesso per quelle trovate sul terreno ecco qui le immagini ottenute con la ripresa accelerata per l'esattezza sono la prima e l'ultima delle orme rilevate su terreno morbido la forma non cambia molto ma c'è perdita di qualità mentre per quelle nella neve la forma e la dimensione cambiavano qui sembrano più che altro sparire l'esperimento ha dimostrato che nel tempo le modificazioni delle orme sul terreno sono minime questo suggerisce che in questo caso non può trattarsi di errata identificazione il resto degli esperimenti condotti sulle tracce sembra puntare all'esistenza di una grande creatura attualmente ancora sconosciuta ecco è il più grande orso Bruno mai visto il peso necessario per ottenere impronte simili a quelle raccolte ha raggiunto un livello impressionante nemmeno a 350 kg le orme eguagliano quelle delle foto siamo a 400 kg si vede abbastanza bene che le dita si sono impresse nel terreno togliamo il carico così inclinano ecco finalmente è abbastanza chiara si vedono bene le dita e anche il tallone direi le dita sono ben distinte penso sia abbastanza simile alla fotografia adesso ma il peso è fisso non ha il movimento dinamico tipico di una persona o di un animale che si muove e il cui peso quindi oscilla potremmo ipotizzare un'origine che si aggira tra i 360 e i 450 kg e non ci sono orsi in questa zona che sfiorino questo peso te lo posso proprio garantire questo test rivela chiaramente che le tracce non sono state fatte da un predatore noto e originario della zona il gruppo di ricerca sull'elicottero ha individuato urme interessanti penso di aver visto qualcosa si spostano ancora un po' per dare un'occhiata più da vicino ma le tracce sembrano appartenere a dei coyote pare proprio che la direzione sia quella giusta ma il temporale in arrivo rema contro non c'è neve lassù non è proprio quello che speravo guarda che muro quelle nuvole in arrivo è meglio che ci togliamo da qui sta diventando buio si mette proprio male gli esperti hanno capito che la creatura che si aggira da queste parti è più grande di un qualunque predatore noto e originario della zona hanno anche concluso che sembra seguire la migrazione degli alci e hanno potuto escludere l'opzione dell'errata identificazione con degli orsi le prove fotografiche sono vaghe ma i risultati ci sono abbiamo esplorato quasi 100 chilometri di percorso e abbiamo capito che quando ci si trova in volo con l'elicottero si riesce a esplorare il terreno solo in determinate condizioni ma la tecnica ha funzionato bene e non vediamo l'ora di continuare ritengo che questo uomo delle nevi possa esistere davvero certo è solo un'ipotesi e non è stata comprovata ma potrebbe essere molti hanno visto qualcosa nella foresta sia che si tratti di Sasquatch o no è fuori discussione e di certo è qualcosa di non comune non so dire cosa fosse non era un orso non era un alce neoleone di montagna come scientifico devo mantenere una mente aperta e curiosa ed è vero che ancora oggi stiamo scoprendo nuove specie in zone remote del mondo anche se spesso sono difficili da studiare e documentare